buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video nuovo arrivo in casa Archimede bellissima giacca estiva super elastica super sottile da circa 3 mm 3 mm fantastica scomposizione d'immagine molto leggera appoggio sternale come piace a me doppio velcro come piace a me bellissima oggi la proviamo ormai l'acqua è molto calda quando faccio delle pesche in acqua molto bassa specialmente nelle ore così centrali del giorno la temperatura comunque intorno ai 25 gradi e passa nell'acqua molto bassa arriva e quindi ho bisogno di una giacca molto leggera l'amico Enrico me l'ha appena fatto avere mi è appena arrivata e non vedo l'ora di provarla vediamo come va buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video come dico sempre a me piace cambiare oggi faremo una pesca in laguna diciamo in una grossa baia con un fondale prevalentemente algoso e solo vicino a terra in qualche zona vicino arriva c'è qualche piccola rocettina un po di così di ghiaietta di sabbiolina vicino arriva però uscendo verso il largo è prevalentemente algoso quindi il fondale è quasi tutto uguale la pesca consiste in fare aspetti a caso si sparano aspetti su aspetti su aspetti schiaffo sull'acqua d'obbligo prima di scendere e ogni tanto qualche bella cattura arriva è una pesca particolare l'acqua è molto calda la temperatura è di circa 26 27 gradi sto utilizzando la nuova giacca da 3 mm buona visione grazie a tutti grazie a tutti va bene dai per oggi va bene così una pescata diversa dal solito in un fondale che non avevo mai fatto mi sono inventato praticamente una tecnica di pesca ero un po leggerino mi sarebbe servita più zavorra però come dico sempre l'importante è cambiare e non annoiarsi mai facendo sempre gli stessi stili di pesca stavo benissimo in acqua con una temperatura così elevata avere una giacchettina super elastica su misura è qualcosa di fantastico mi sembra di non avere niente addosso mi sono veramente e con tutto quest'ora e mezzo d'acqua qui di aspetti adesso esco una bella doccia e rientro a casa il mare mi ha dato un paio di catture più che sufficienti per una bella grigliata per pranzo e va bene così chiaramente stando un'altra ora avrei preso un altro tanto di pesci così ma mi è più che sufficiente ti ringrazio a tutti buon proseguimento di agosto a tutti